buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv ebbene oggi è martedì 10 settembre 2024 e diciamo subito che si festeggia un santo di casa nostra siamo marchigiani e non possiamo non voler bene a san nicola da tolentino eccolo qua san nicola da tolentino che visse nel tredicesimo secolo nacque a sant'angelo in pontano in provincia di macerata ma trascorse buona parte della sua vita a tolentino fu chiamato nicola perché era nato dopo un pellegrinaggio che i suoi genitori avevano fatto a san nicola di bari non avevano ancora figli desideravano un bambino il bambino venne i genitori gli misero nome nicola ebbene nicola fin da piccolo mostrò una venerazione per i santi un amore per gesù cristo e quindi indossò l'abito degli agostiniani ebbene in questa veste tesse un ultimo di un intimo dialogo con il signore tanto che quando celebrava la messa dai suoi occhi sgorgavano lacrime lacrime d'amore e le sue gote si infiammavano insomma andava quasi in estasi era veramente un colloquio un discorso intimo tra lui e la divinità a tolentino dicevo trascorse gran parte della sua vita e la sua vita compiendo non pochi miracoli e morì proprio il 10 settembre era l'anno 1305 questo è san nicola insomma un santo nostro e chi non ha avuto l'occasione di andare a venerare il santo a tolentino beh bisogna che ci vada perché insomma è un pellegrinaggio da far semplicemente per i marchigiani e quindi passiamo alle previsioni del tempo torna torna il bel sole dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi c'è ancora una residua in stabilità al mattino sulla porzione centro meridionale della regione a seguire ci sarà un generale miglioramento del tempo quindi il cielo sereno sulle coste i venti ispireranno da nord e nord est nell'entroterra da nord e il mare leggermente mosso le temperature leggermente in calo 20 la minima 27 27 la massima quindi non si raggiungono più i limiti dei 30 gradi il sole è sorto alle 6 e 39 e tramonterà alle 19 e 29 questo è un po il quadro con cui iniziamo la giornata di oggi ed ora passiamo alle notizie vediamo subito l'apertura del corriere adriatico si parla di antenne nella pagina di fano si parla di antenne dopo la protesta elevata dai residenti di metauriglia che temevano l'insorgere di un nuovo impianto in un'area di via iozzino ebbene così non sarà c'è stato poi un batti ribatti tra l'assessore all'urbanistica il vice sindaco loretta manocchi e l'ex assessore all'ambiente cora fattori ebbene la tesi di cora fattori oggi c'è sui giornali e dice guardate il piano delle antenne che fano ha adottato nel mese di marzo scorso è da rifare sono passati pochi mesi ma perché questo piano è da rifare ebbene il piano è stato rifatto nel mese di marzo quando alla fine del mese sempre di marzo le compagnie telefoniche presentavano i loro piani di sviluppo e questi piani di sviluppo non erano contemplati nel piano che era stato approvato pochi giorni prima ma perché il piano era stato approvato pochi giorni prima perché incombevano le elezioni e quindi si sarebbe sospesa l'attività amministrativa della giunta e quindi bisognava fare in fretta comunque è stato dato un incarico ad una società una società di consulenza che è molto molto esperta nel settore per tre anni e quindi il fatto di rifare il piano era già in programma già nel marzo scorso e quindi il piano è da rifare da rifare in sintonia appunto con le richieste delle compagnie telefoniche che ora possono contrattare con l'amministrazione comunale il sito più idoneo non comandano più in modo assolutistico le compagnie telefoniche ma l'amministrazione comunale può disporre di una contrattazione insomma il piano prevede dove possono essere dislocate le antenne senza procurare danni all'ambiente o alla salute dei cittadini insomma queste sono alcune precisazioni che fa l'ex assessore Cora Fattori che rivendica insomma la giunta precedente il merito di avere così posto delle regole ad una situazione selvaggia precedente che permetteva alle compagnie di fare il bello e cattivo tempo Fanno si è dotata tra le prime delle marche se non la prima delle marche di questo nuovo piano antenne che consentirà appunto ai cittadini di avere almeno uno scudo non so quanto protettivo ma almeno uno scudo lo avrà per proteggersi dalle emissioni dannose degli impianti telefonici insomma sono necessari perché la copertura deve essere totale del territorio ma non devono essere dannosi prima di tutto per la salute e poi anche per l'ambiente avvistati due lupi due lupi in città e non è la prima volta avvistati due lupi uno ha preso un gatto ce l'aveva in bocca insomma veramente uno spettacolo un po' truce una nuova segnalazione dopo quella del vallato è stata fatta dunque Genesodde fatte due le segnalazioni una al vallato e una a San Lazzaro nel giro di nemmeno 24 ore probabilmente è la stessa coppia di lupi che di notte insomma si fa viva di giorno se ne sta acquattata da qualche parte di notte invece gira nei quartieri che cosa la ricerca di cibo ovviamente e se trova un gatto oppure anche un cagnolino che magari è rimasto fuori di casa beh la situazione diventa drammatica non dovrebbero essere aggressivi per gli uomini e quindi insomma da questo punto di vista dovremmo stare sicuri però insomma il fatto che lupi lupi selvaggi girino per la città insomma non c'è da stare tanto tranquilli e allora invece parliamo dell'evento che sta così rivoluzionando un po' la vita nelle famiglie di questi giorni perché inizia l'anno scolastico inizia l'anno scolastico i bambini lasciano alle spalle e anche i ragazzi lasciano alle spalle le vacanze cominciano a pensare agli studi si preparano i libri si mettono a posto le cartelle e ci si inquadra in un nuovo sistema di vita ebbene prima campanella ieri dell'anno 2024 2025 per le bambine e i bambini iscritti alle scuole dell'infanzia le scuole materne abbiamo visto come il 4 settembre sono iniziati gli asili nido quei bambini più piccoli quelli da 0 a 3 anni ebbene ieri invece sono cominciate le scuole dell'infanzia le scuole materne fino a 6 anni quando poi si cominciano le scuole elementari ieri mattina hanno ricevuto i bambini il saluto anche gli insegnanti ovviamente il saluto del sindaco luca sefilippi e dell'assessore ai servizi educativi loredana mangernino i quali hanno avuto l'occasione di confrontarsi anche con il personale scolastico il quale ha messo in evidenza un po' i problemi che ancora incombono sulle scuole sui servizi appunto il cuore del percorso educativo per i nostri bambini e ha detto il sindaco serfilippi è proprio in questo inizio del sistema educativo un sistema educativo per il quale fano si è sempre distinta ha sottolineato con soddisfazione che nessuna famiglia è rimasta esclusa dalle liste l'amministrazione comunale infatti è riuscita ad accogliere tutte le richieste che sono pervenute sono 533 le bambine e i bambini che frequentano le sette scuole comunali dell'infanzia a fano e questo veramente è un bel risultato vediamo ora un articolo che riguarda il turismo un turismo comprensoriale non solo cittadino un turismo che implica anche il comune di san costanzo per quanto riguarda le frazioni di camminate metauriglia e stacciola insomma sono quelle frazioni che sono in al confine che sono insomma molto molto vicine tra i comuni nel confine tra i comuni di san costanzo e di fano ebbene in questo caso c'è una possibilità di concorrere a un bando regionale importante si tratta del bando regionale borgo accogliente pubblicato lo scorso maggio e destinato alle realtà inserite nell'elenco dei borghi storici san costanzo è uno di questi ebbene concorrere insieme vuol dire valorizzare le proprie opportunità storico culturali ambientali artistiche e quindi si fa un progresso e si ricevono ovviamente più finanziamenti più soldi per poter appunto porsi in evidenza a livello nazionale ieri sono stati accolti gli ospiti che da rastat vengono a fano un anno sì e un anno no ebbene questa è l'iniziativa foresta nera mare blu un'iniziativa che quest'anno festeggia i 25 anni ed è un punto importante un collante che tiene unito il gemellaggio tra fano e rastat un gemellaggio che il prossimo anno compie 40 anni di vita ed è forse il gemellaggio più attivo quello più sentito quello ancora più vitale tra le due realtà tra le due tra le due cittadinanze abbiamo a fano altri gemellaggi santuen e l'omont purtroppo è svanito un po così forse potrà essere recuperato abbiamo gandia abbiamo velisca abbiamo sentolbans però quello più attuale quello più sentito è quello di rastat a cui era intitolato l'anfiteatro è stato così smantellato in sostituzione di una pedana che ora al momento attende un nome probabilmente non so se avrà lo stesso nome oppure sarà cambiato comunque in questo caso foresta nera mare blu invita a fano 33 persone di cui sono molti disabili sono sette gli accompagnatori che trascorreranno a fano nella nostra città una settimana andranno al mare visiteranno la città visiteranno anche l'entroterra il prossimo anno toccherà invece ai fanesi andare a rastat a trascorrere la vacanza ebbene è una di quelle iniziative di solidarietà che durano nel tempo e costituiscono come ho detto lo zoccolo duro di questo gemellaggio sapori storia e sensazioni rilanciati grandi eventi a Pergola dove si è così reso noto il programma di promozione di attrattive di questo bellissimo centro della valle del cesano tornano i grandi eventi a Pergola sono stati presentati presso la confcommercio Marche Nord di Pesaro con l'animazione di alcuni componenti del gruppo la pandolfaccia che vanno sempre colore locale la pandolfaccia lo sappiamo è di fano ebbene da giugno si inizia a rilanciare la fiera nazionale del tartufo e farla tornare la kermesse più prestigiosa d'Italia con l'obiettivo che superi i confini nazionali e diventi internazionale e poi ci sono altre iniziative i grandi eventi saranno promossi dal climb delle 3S ovvero sapori autentici dei nostri prodotti tipici storia millenaria quella dei bronzi dorati e le sensazioni indimenticabili che ci regalano le marche l'unica ragione al plurale ebbene a Pergola abbiamo storia abbiamo gastronomia abbiamo colore locale insomma cosa ci vuole di più per trascorrere una bella vacanza una bella visita culturale ma anche gastronomica perché insomma il tartufo è uno dei elementi prodotti più pregiati del nostro territorio Don Emanuele Don Emanuele si congeda dalla parrocchia ebbene un corale saluto a quello che la comunità di Mondolfo ha rivolto domenica scorsa a Don Emanuele Lauretani che è in procinto di lasciare la Val Cesano verso un nuovo incarico che gli è stato affidato dal Vescovo di Senigallia tra Marzocca e Montignano l'antico santuario della Madonna delle Grotte è stato il luogo dell'abbraccio comunitario la comunità ha espresso la sua riconoscenza il suo amore verso questo pastore che ha dato che ha avuto che ha dato che ha amministrato il suo ministero per diverso tempo vediamo una pagina di Senigallia lungomare Marconi vietato alle auto 5 mesi di lavori ma si inizia a ottobre diventerà pedonale e ciclabile ci sarà un parco in piazzale Morandi regine migliorati gli arredi ebbene sono stati rinviati a ottobre dovevano cominciare a settembre ma c'è stato uno spostamento i lavori per il restyling del lungomare Marconi così ha deciso la Giunta nell'ultima riunione per lo stesso motivo è stato concesso anche il mese di settembre e qualche altra settimana ma a metà ottobre si parte l'opera richiede 5 mesi di lavoro salvo imprevisti a metà marzo del prossimo anno il lungomare sarà sistemato sarà pronto nella nuova immagine vediamo anche la pagina di Pesaro la pagina di Pesaro dove emerge l'argomento delle scuole suona la campanella per 45.000 ragazzi per strutture e cattedre un inizio a pieno regime ebbene i numeri sono importanti per quanto riguarda l'inizio dell'anno scolastico perché coinvolgono non soltanto i ragazzi che sono i protagonisti di questa nuova esperienza ma soprattutto anche le famiglie poi hanno un risvolto economico un risvolto culturale insomma coinvolgono in pieno tutta la comunità e in totale sono veramente 45.000 gli studenti pesaresi esattamente 45.345 che da domani torneranno nei banchi di scuola vediamo come vengono articolati questi numeri 5.149 i bambini ospitati nelle scuole dell'infanzia di tutta la provincia 13.262 i bambini accolti nelle scuole primarie e poi 9.666 i ragazzi che frequentano le scuole di primo grado le medie 17.268 gli iscritti alle scuole di secondo grado sono quelli poi che iniziano il percorso verso la maturità oppure insomma si appresteranno quest'anno a darlo l'altro articolo riguarda il tremendo atto che è stato compiuto a Saltara dove un uomo ha ucciso la moglie di fronte ai suoi tre figli figli molto piccoli di 14, 13 e 6 anni che hanno assistito purtroppo al massacro si tratta di Ezio l'autista dei colli al Metauro che ieri è stato interrogato dal GIP Ezio di Levrano che è accusato di omicidio aggravato per la morte e per l'uccisione di Anna Cristina Duarte Correia la moglie erano sposati da tempo e lei era originaria del Brasile ma si stavano separando insomma l'uomo era violento e la donna era già uscita di casa forse quel giorno era tornata per rivedere i suoi figli che erano rimasti con il padre purtroppo quel ritorno le è rimasto fatale vediamo anche le manifestazioni che si stanno svolgendo a Pesaro vediamo qui delle scarpe insanguinate per un flash mob molto potente dedicato alle donne assassinate appunto sembra che sia un massacro una fila di delitti che non termina mai veramente è una cosa indescrivibile vediamo anche un'altra notizia San Nicola avvia a tre giorni di fiera inizia oggi la fiera di San Nicola a Pesaro e Pesaro diventa la capitale del gusto la capitale del gusto è una delle novità che caratterizzano questa fiera sono tantissimi gli espositori circa 500 che si dilungono nelle lungomare di Pesaro i prodotti sono infiniti sono tantissimi ebbene vediamo qualche particolare a livello organizzativo per gli utenti ci sono a disposizione i seguenti parcheggi questa è una cosa importante perché altrimenti la fiera non si può visitare ebbene i parcheggi sono Villa Marina il parcheggio è gratuito con 160 posti auto l'apertura è 24 ore su 24 l'accesso è da Viale Gorizia il curvone è a pagamento 325 posti auto apertura acqua H24 ebbene poi abbiamo l'accesso che è da Viale Partigiani via Marsala a pagamento con 40 posti auto orario 7.30 una di notte accesso da via Marsala Viale Battisti sarà chiusa al traffico eccetto per i residenti e gli operatori per evitare congestionamenti e flussi veicolari al confine con l'area espositiva insomma ci vuole un diaframma per cercare di regolare nel migliore dei modi il traffico vediamo il resto del Carlino l'apertura è dedicata a una notizia che ogni tanto rimbalza nelle pagine dei giornali quella del teatro romano ebbene insomma di varie amministrazioni hanno cercato di così risolvere questo problema di apertura che non capisco perché sia così difficile di questo grande ricordo dell'antica Fanno un fortuna che la storia ci ha tramandato ebbene teatro romano c'è una nuova iniziativa si è mosso l'assessore e le vori pubblici Gianluca Ilari che cerca di mettere a frutto le risorse che sono state date sono quasi 6 milioni 6 milioni e quando sono stati dati a Fanno hanno sospeso un po' l'iter che era stato organizzato per cercare appunto di mettere a frutto queste nuove risorse l'assessore alle opere pubbliche sta lavorando al progetto per la messa in sicurezza dell'area di Via De Amicis dove c'è anche l'ex Filanda questo stabile che dovrebbe diventare il museo della civiltà romana riqualificheremo l'ex Filanda Bosoni ha detto Ilari e creeremo il museo della romanità speriamo insomma che quello che si accinge fare l'assessore Ilari ottenga i suoi frutti e avrà l'appoggio di tutta la città trovato morto in casa aveva solo 49 anni si tratta di Fausto Capodagli un semplice idraulico ma era ben amato e ben voluto da tutti coloro che lo conoscevano è molto conosciuto a Tombaccia dove era nato e cresciuto aveva fondato l'associazione Quei Dlà Dal Fium una delle associazioni vive di Tombaccia di Caminate con le quale poi partecipava a tutte le iniziative cittadine a partire dall'affano dei Cesari dal Paglio delle Contrade dalla Festa del Fritto che è una delle iniziative proprio tipiche dell'associazione Quei Dlà Dal Fium ebbene è stato trovato ieri alle 7.30 dal padre riverso a terra nel bagno di casa immediato scattato l'allarme è intervenuto il 118 ma purtroppo non c'è stato nulla da fare la sua morte probabilmente era avvenuta già qualche minuto oppure qualche tempo prima e quindi non c'è stato nulla da fare Tribunale del malato Tribunale del malato forse non tutti sanno che è all'ospedale Santa Croce perché questa è una è una entità che non ambisce a salire sulla cronaca non ambisce ai titoli in prima pagina è un'entità che lavora sotto tono ma che lavora lavora fattivamente all'ospedale assiste i malati assiste i familiari dei malati e cerca di fare valere i propri diritti però questa entità è ridotta ormai all'osso la cura era soltanto due persone una di queste è la presidente del Tribunale del malato Adriana Amello ebbene rischia la chiusura il Tribunale dei diritti del malato di Fano perché mancano i volontari siamo rimasti in due ha detto Amello io è una fisioterapista in pensione e non possiamo assicurare l'apertura al pubblico dell'ufficio all'interno del Santa Croce si trova nel blocco B a piano terra per più di due volte la settimana il martedì e il giovedì dalle 9.45 alle 12.30 anche se negli altri giorni io lavoro da casa ha detto la presidente insomma si trovano in difficoltà e speriamo che insomma qualcuno aderisca a questo invito e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto